buongiorno a tutti sono Emanuele Merlino il presidente del comitato dieci febbraio una delle più importanti associazioni che si occupa della memoria dell'italianità dell'atriatico orientale e in particolare visto che oggi ricordiamo le vicende relative al giorno del ricordo del tema delle foibe dell'esodo ma non solo dell'italianità dell'istra il fiume della dalmazia le storie culturali ma a volte tragiche soprattutto all'ultimo periodo naturalmente che hanno colpito le popolazioni di quelle terre e soprattutto gli italiani mi spiace non essere lì con voi e mi spiace non soltanto perché quando si fa un evento è più bello più anche più facile e realizzarlo guardandosi perché è più facile più possibile più semplice condividere ma anche perché quello di cui noi oggi parliamo la storia di cui noi oggi parliamo è una storia di carne e sangue è una storia di vita vissuta e lo schermo del computer in qualche misura appiattisce io potrei essere lì come potrei essere da tutt'altra parte potrebbe essere un film quello che vi racconto invece purtroppo è successo purtroppo ma forse alla fine di questa mia breve storia forse ci sarà una morale un un attimo di speranza io ho curato come presidente del comitato 10 febbraio un libro che vedete sopra la mia spalla esattamente più o meno qui e che si chiama norma cossetto rosa d'italia eccolo qua norma cossetto era una studentessa aveva 23 anni di santa domenica di visinata un piccolo paesino che oggi è in croazia si chiama labinci mi scuserete se il mio pronunciare il croato non sarà forse perfetto ovviamente mi risulta più facile l'italiano è chiaro è nata nel 1920 quando l'istria era italiana anche come amministrazione perché per vent'anni più o meno fino poco più di vent'anni diciamo fino al 1945 l'istria fece parte del regno d'italia ma noi in norma cossetto sappiamo che l'istria come lingua e come cultura era italiana da sempre quest'anno avrete studiato avrete letto che il più grande poeta della storia d'italia dante ligieri quest'anno si celebrano i 700 anni dalla morte nel nono canto dell'inferno dante scrive che i confini d'italia erano a pola nei pressi del carnaro ovviamente il concetto di italia di dante era forse leggermente diverso dal nostro noi quando parliamo di italia parliamo di una realtà delimitata dai confini quindi qualcosa anche solo di amministrativo per dante era un'unione di lingua e cultura che partiva da quella che ancora oggi italia arrivava fino a pola che era considerata quindi l'istria era considerata facente parte e quanto meno da parte sul mare a pieno titolo della sfera dell'italianità ma pensate che circa poco meno di 1300 anni prima il geografo greco strabone scrive nel 14 dopo cristo un libro una serie di un libro una serie di volumi dal titolo geografia in cui si dice esattamente la stessa cosa l'italia nasce come concetto come identità se vogliamo in quella che oggi è la calabria prende tutto quanto lo stivale e arriva fino a ora e poi aggiunge che ora era definita dal poeta greco callimaco la città degli esuli perché è fondata da una popolazione in fuga curioso e triste che poi la venga considerata italiana nel momento in cui la si descrive come città di esuli viene certificata italiana dal più grande dei nostri poeti dante lighieri che esule a sua volta no morirà a ravenna e scriverà quanto è duro il pane quando non è di casa tua lo dice meglio di così ma sono dato abbraccio e poi smetterà di essere l'italiana con un altro esodo quello soprattutto nel 1947 di cui si possono vedere le immagini alcune immagini con il piroscafo toscana che lascia la città che si svuoterà di circa il 90 per cento degli abitanti praticamente tutta bene dicevo lo penso io lo so io leggendo questi libri ma lo sapeva anche Norma Cossetto ecco perché è così importante per lei e nella sua storia il senso di italianità perché noi descriviamo nel libro e le sue vicende fa la studentessa fuorisede a Padova comincia a studiare per laurearsi sul colore della propria terra verra istriana e ricca di bauxite di materiali ferrosi che ne danno un colore rosso e quindi il titolo della sua tesi era l'istria rossa e appunto per il colore che aveva insomma diciamo una tesi geografia e poi come dire voleva essere indipendente all'interno del nostro libro troverete tante testimonianze anche fotografie inedite proposte sono 300 più di 300 pagine davvero ricche soprattutto di emozione l'emozione per la storia di questa ragazza che fa la studentessa fuorisede nel 1940 41 e poi nel 1943 dopo l'8 settembre dopo il momento in cui con la caduta del fascismo che in quel momento era non soltanto Mussolini con tutto quello che ne consegue ma era anche l'Italia stessa con il controllo del territorio la sicurezza e in un momento di guerra l'abbandono da parte delle nostre truppe dell'istria fa sì che una forza che aveva la volontà certamente di essere antifascista ma anche di far sì che le terre che erano italiane per lingua e cultura e che in quel momento erano italiane ormai da vent'anni anche come stato entrassero a far parte di una nuova realtà statuale cioè appunto la Jugoslavia che sarà Jugoslavia comunista del maresciallo Tito entrano sul territorio entrano sul territorio non come liberatori ma come conquistatori qualcuno probabilmente se ne sarà parlato anche nei vostri incontri e colpiscono e fanno sparire persone che erano collegate al fascismo quindi che erano considerate a torto o a ragione dei criminali che avevano presso gli slavi o gli antifascisti ma questa è la parte minoritaria la realtà dei fatti che vogliono dimostrare che quelle terre sono e saranno di altri. Norma Gossetto ovviamente non aveva nessun tipo di colpa era italiana era orgogliosa di essere italiana certamente questo non era apprezzato era una ragazza indipendente pensate pensate che tirava con l'arco e giocava a basket negli anni 30 e 40 giocava giocava a basket il le divise all'epoca erano molto diverse si giocava con la gonda pensate che scomunità in effetti e giocava ed era una a cui piaceva la competizione voleva vincere e poi appunto gira per l'istria in quegli anni quegli ultimi anni per trovare informazioni negli archivi su la composizione del terreno o la storia del punto dell'isteria rossa fino a che dopo appunto l'otto settembre i partigiani comunisti legati al maresciallo Tito e diventano i padroni del territorio lei viene convocata una prima volta presa una prima volta in quel momento le viene chiesto di entrare nel movimento partigiano che non è il movimento con tutte le sue sfaccettature non è il movimento che ha portato al 25 aprile a quella che è chiamata la liberazione è un'altra cosa è un movimento che vuole conquistare un terreno un territorio poi ci sono anche partigiani che combattono naturalmente per per la libertà indiscutibilmente però all'interno c'erano molti che erano possiamo dirlo dei dei criminali le chiedo entrare nel movimento partigiano e lei rifiuta su youtube troverete un'intervista se cercate lì c'è a cossetto in cui racconta che accade le chiedo entrare nel movimento partigiano lei rifiuta torna a casa ma poi la passano a riprendere di nuovo a quel punto la situazione diventa terribile perché ci saranno vari spostamenti da santa domenica fino ad arrivare alla scuola di antignana dove lei verrà legata a un tavolo e passerà una notte d'inferno potete immaginare che cosa sia accaduto perché l'uomo quando ha il potere ed è criminale dentro abusa degli altri e se è una donna abusa due volte perché vuole dimostrare anche come dire fisicamente di essere il padrone e lei subisce tutto questo e poi viene portata a Villa Surani Villa Surani è un piccolissimo paese un borgo e che da Pordenone e dal frio di Venezia Giulia dista davvero davvero poco un'ora forse un'ora e mezza massimo e ci sono poche case se voi oggi andate e parcheggiate la macchina perché siete in mezzo alla campagna ma vicino alla strada che porta poi a Pola e dopo più giù e le vicino anche al mare il si cammina per circa un chilometro e poi si vede un boschetto questo boschetto è delimitato da un filo spinato che non si può attraversare ma se qualcuno scavalcasse vedrebbe dopo il primo albero la terra degradare cioè scendere e poi un buco non è molto grande saranno due metri per due insomma grande un po' come ma meno del della parete che vedete alle mie spalle e quella è la foiba di Villa Surani e lei la notte fra il 4 e 5 ottobre è stata gettata là dentro ancora viva immaginate che cosa terribile che cosa terribile è morire in generale ma una morte del genere sono circa cinque secondi di volo durano cinque secondi durano tanto e poi dopo c'è se si è fortunati è brutto a dirlo immediatamente la morte se no si è agonizzanti per un poco tempo in preda al dolore e poi si finisce ma perché le foibe perché buttando all'interno di questi buchi persone vive o appena fucilate o uccise non si occultava soltanto il cadavere cioè non si nascondeva soltanto il cadavere così si evitava magari che se fossero tornati gli italiani o i tedeschi di pagare per le conseguenze di un crimine essere arrestati o fucilati visto siamo all'interno in un tempo in cui esisteva la condanna a morte per reati come lo stupro l'omicidio eccetera bene ma era anche per cancellare un'appartenenza per quanto tempo non si è parlato della triste storia dell'infoibati e degli esuli per tanto tempo non c'era la legge che avete conosciuto che vi è stata citata legge 92 del 2004 del giorno del ricordo quindi nessuno sapeva cosa fosse successo all'infoibati e agli esuli se non gli esuli stessi e chi aveva avuto occasione di conoscerli ecco infoibati perché cancellando il corpo si cancellava un'identità un'appartenenza una storia e ci sono riusciti molto bene perché poi l'istria fiume del mazzo sono diventati jugoslade e ripeto per tanto tempo non si è conosciuta questa storia eppure dopo anni siamo qui e ricordiamo Norma Cossetto evidentemente il suo impegno la sua storia la sua forza ci hanno eh garantito che il ricordo vincesse contro la morte nel libro ci sono moltissime fotografie cioè come vedete in copertina questa è una fotografia di Norma bambina a scuola ovviamente non si vede tanto bene attraverso il video però è molto bella che c'è stata fornita dal dei familiari eh Diana Loredana e Dino Cossetto che raccontano eh la storia del padre del loro padre che era cugino di Norma una storia davvero emozionante oppure ci sono c'è l'intervento dell'ultima persona che l'ha vista viva e poi altre storie tante fotografie tanta ripeto tanta emozione la storia in sé di Norma come ha vissuto che cosa ha fatto che emozioni aveva che cosa voleva fare e infine un grande il grande messaggio che lei ci lancia perché vedete il presidente della Repubblica Carlo Azzaglio Ciampi tanto tempo fa ma non così tanto nel 2005 le concesse la medaglia d'oro al merito civile la medaglia d'oro viene concessa a quegli eroi che sacrificano tanto si impegnano tanto per il bene degli altri rischiando tantissimo la vita e la vita purtroppo la perse uccisa in quella maniera terribile che vi ho raccontato però c'è un altro fatto Norma negli ultimi anni della sua vita era diventata anche insegnante fa fino a laurearsi faceva la supplente a scuola e perché lo faceva sicuramente perché voleva avere un lavoro e quindi qualche soldo già uno stipendio giustamente per avere una propria vita per essere autonoma vivere per conto suo ma anche perché riteneva come anche noi riteniamo che insegnare raccontare storie di personaggi importanti e anche di personaggi eroici possa servire a costruire una comunità più unita più coesa se noi siamo contenti di stare insieme o se noi invece nella tristezza di storie così condividiamo una storia forse è più facile costruire un mondo migliore impegnarci per un mondo migliore quante volte vi capita di vedere un video un film qualcuno che parla su youtube di qualcosa di triste e pensare vi capita di pensare ah lo vorrei aiutare vorrei stare vicino a lui o a lei naturalmente ecco io credo che accada sempre anche per storie lontana tanto lontane da noi e in quel momento nel momento in cui pensiamo vogliamo aiutarlo non il giusto che soffra bene stiamo diventando delle persone migliori perché cercheremo di impedire che ad altri accada ecco norma costetto racconta con la sua vita questa storia l'impegno per gli altri il sacrificio per gli altri insegna come insegnano i professori e le professoresse ci raccontano storie che ci serviranno nel futuro per essere uomini e donne e donne migliori attraverso appunto degli esempi come norma costetto e davvero tanti altri che abbiamo provato a raccontare in questo libro anche con delle proposte di intitolazione di luoghi insomma una serie di di storie di vicende che raccontano una martire perché è stata appunto la martire dell'istria e martire appunto dicevo prima viene da testimone viene dal greco testimone e ha testimoniato questo ma ha testimoniato anche il fatto di non arrendersi di non accettare l'ingiustizia non accettare il male e combatterlo in tutti i modi possibili e immaginabili lei subisce questo male e ne viene uccisa eppure dopo tanti anni noi ricordiamo la storia non soltanto la sua ma tutta la storia di istra e fiume dalmazia anche grazie al suo sacrificio ed è un modo per darle giustizia io avrei voluto essere con voi raccontarvi più storie raccontare vicende anche più allegre naturalmente che riguardano questa storia per quanto possibile perché è una storia di morte e di abbandono eppure eppure io credo che noi ci incontreremo in qualche modo capiterà qualche conferenza o leggendo qualche libro mio o io leggendo qualcosa che scriverete voi ma credo e spero soprattutto che ci incontreremo nel momento in cui pur se lontani pur se non ci presenteremo mai e quindi solo voi saprete che mi chiamo Emanuele Merlino ma io non saprò mai i vostri nomi cercheremo di fare qualcosa di bene per la di buono per la nostra comunità perché magari ricorderemo Norma Gossetto e ci diremo non vogliamo soffrire come lei ma vogliamo ma non vogliamo nemmeno che qualcun altro soffra ecco noi abbiamo raccontato questa storia per questo forse non tanto per Norma Gossetto anche se ovviamente molto è per lei e sicuramente lei ci ha dato la spinta ma per noi stessi perché essere dei bravi cittadini dei bravi ragazzi ragazze essere persone giuste lo si fa perché lo si prova dentro ma anche perché ci si hanno degli esempi che ci spingono a farlo vi ringrazio spero di avervi raccontato brevemente una storia e a presto di persona o semplicemente facendo quello che è giusto grazie a voi e ai vostri insegnanti grazie a voi